Una casa di campagna lasciata in stato d'abbandono da tempo è stata a teatro nella tarda serata di ieri di un principio d'incendio domato grazie all'intervento dei vigili del fuoco di Vicenza, gli operatori giunti sul posto a bordo di tre mezzi di soccorso in via Piave a costa di Sara. La tempestività dell'operazione portata a termine ha permesso di salvaguardare il vecchio edificio disabitato e la sua struttura complessiva dopo che il porticato in legno e il materiale ammassato in deposito, non meglio precisato, è stato incinerito nel robo. L'allarme è scattato giovedì sera intorno alle 23 quando qualcuno ha avvertito il numero di soccorso vedendo nell'oscurità una sorte di grande pizzone. I pompieri a corsi da Vicenza con un'autopompa, un autobotte, un mezzo di trasporto e sette operatori hanno iniziato lo spegnimento delle fiamme. L'incendio già alimentato dalla comparente in legno e in particolare dalle vecchie travi è stato in breve tempo circoscritto, evitando così il coinvolgimento dell'intera abitazione di fatto vuota.